Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video diverso dal solito dove siamo tutti e cinque questa volta e non siamo su Minecraft A parte questa testa di cubetto qua Ciao testa di cubetto Allora, cosa stiamo a fare tutti qui insieme? Che ci stiamo a fare qui insieme? Siamo in odio a dar fastidio a mordog Ecco, io sono in odio a rompere le palle a me Ad usare la mia web marcano e scrausa perché non potevamo usarla Tu me l'hai detto? No, infatti Allora, siamo qui per che cosa? Perché abbiamo in mente di iniziare, diciamo, una nuova serie Una rubrica Una rubrica Diciamo la maniera, c'è ragione La rubrica Il professor I Che si chiama Ma era? I cinque nel tubo? I cinque nel tubo, per esempio In cinque nel tubo In cinque nel tubo Incinto nel tubo Incinto nel cinque? No Quella al canale 5 lo fanno In cinque nel tubo Vabbè, quello E praticamente è una rubrica, diciamo, di domanda e risposta Il classico question as war, in pratica Che molti di voi già conoscono sicuramente in internet E su YouTube, lo stesso Perché pure su Facebook lo fanno E che faremo? Andremo in pratica a fare un post ogni... Diciamo, cercheremo adesso di farla almeno ogni mese Questa cosa Vediamo un po' se ti piace La facciamo più spesso Faremo una domanda su Facebook Oppure ci farete delle domande su Facebook Un post specifico E noi risponderemo ad alcune delle vostre domande Riprenderemo una decina, una ventina Dipende poi dopo dal tempo E dalle domande Esattamente Se saranno domande... Da come ce ne è pure Se sono domande interessanti Bene Se sono domande che ci fate molto spesso Ne risponderemo a una E aggrupperemo tutte le altre Se sono dei detti O delle prese in giro simpatico O le classiche barzellette O battute O scrause Che fate nei video delle volte Quelle non le leggiamo Perché con quelle ci servirebbe Fare una serie a parte Solo per quelle Le freddure abolitele Completamente Quelli come lo chiamiamo? Freddure sul tubo? Nel tubo Freddure nel tubo C'è ragione E niente ragazzi Quindi Quando la iniziamo sta cosa? Esattamente Oggi Ok Quindi Noi faremo un post Che vedrete su Facebook Appunto Dove potrete mettere tutte le domande specifiche Infatti sarà sicuramente Davanti con Scritto l'hashtag Quei No O non riesco a dire 5 su Nel tubo 1, 2, 3, 4, 5 L'hashtag Lo scrive in 5 nel tubo E sotto a quel messaggio Dovrete scrivere Tutti le vostre domande Perché siamo tutti raggruppati Stretti stretti dentro E visto che Nella fine settimana Non ci saremo E praticamente Risponderemo dopo Risponderemo in seguito Quindi o il lunedì O il martedì Quindi aspettatevi più o meno In quei giorni Se ci riusciamo Se no Giustamente Faremo sempre quelle domande Avrete le nostre notizie Molto presto Detto questo Aspettiamo le domande Fate domande interessanti Mettete mi piace E mettete un vostro commento Sotto il video Nel senso Se vi piace di Lea Sotto bene Ok E condividetelo Condividetelo tanto Perché così Lo fanno in tanti le domande Così più domande si stanno E più ne facciamo noi Vi raccomando Controllate la pagina Facebook E iscrivetevi Ok Vi aspettiamo Ciao 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 ciao